Leone carissimi, grande questo Marte che arriva a darvi manforte e che vi rende ancor più leoni, ma leoni ruggenti sia nel lavoro sia nel privato. Possono esserci opportunità nuove che proprio a cavallo fra l'ultimo giorno dell'anno e l'inizio di quello nuovo potrebbero dare una bella rispolverata alle vostre ambizioni e mettervi nelle condizioni di realizzare i vostri progetti, di ricevere la risposta che aspettavate, di agganciare la persona che speravate di contattare o di entrare in quelle cerchie che vi ingolosiscono, perché saremo pure in un periodo festivo, ma comunque l'attività lavorativa ferve un po' ovunque, quindi è il momento di battere il ferro perché è caldissimo, soprattutto mercoledì, giovedì e venerdì, quando anche l'amore, ma in particolare la soddisfazione ormonale, caratterizzerà il vostro tempo libero e non solo. Da parte di tutti noi, cari amori e felici anno nuovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.